L'eliminazione negli ottavi di Champions League potrebbe condurre a una rivoluzione in casa PSG. Se nelle ultime settimane tiene banco il futuro di Neymar, corteggiato dal Real Madrid, un altro, big dei parigini dal futuro incerto è Marco Verratti. Stando a l'equipe, infatti, l'agente del Nazionale Azzurro vorrebbe far cambiare aria al suo assistito e per questo avrebbe sondato il terreno con il Barcellona in vista di un possibile trasferimento in estate. Il PSG sembra disposto ad avviare una trattativa per la cessione dell'ex giocatore del Pescara, alla luce della necessità di fare cassa per venire incontro alle esigenze del fair play finanziario. Il sacrificato, potrebbe essere proprio Verratti, considerato dai parigini non più un intoccabile. Del resto, l'italiano in passato in più di un'occasione è stato accostato al club blaugrana. E Raiola intende fare leva su tale interesse per apparecchiare il trasloco. Il presidente del PSG Nasser al Chelaifi sarebbe disposto a privarsi di Verratti per meno di 100 milioni di euro. Ma dai piani alti dei catalani Raiola si è sentito rispondere che il giocatore non interessa più. Con l'ingaggio di Arthur, infatti, il Barcellona è convinto di avere già in casa il rinforzo ideale per il centrocampo. Video da Balotelli alla Juve all'addio di Ronaldo al Real tutte le bufale del calciomercato 2018. Grazie a tutti!